Siamo pronti? Allora io volevo dire sinceramente tantissimi auguri, lo sai che ti ho aiutato bene, che ti considero come un secondo papà, però la scommessa che abbiamo fatto oggi non vale, cioè togliamola da mezzo, sono stata costretta da tua moglie, sono stata costretta da tua moglie, mi dispiace, auguri, sei diventando vecchio Come avanti, che posso dire, grazie a tutti Auguri, auguri addio, auguri amore a 100 anni, auguri di buon 40 e cent'anni, e altri cent'anni si riesce a sopravvivere 140 anni, bellissimo di mamma, sei il più amore, non stancherò mai di volerti bene Auguri di 40 anni, auguri papo, ma tra poco forse giungerai alla fine dei giorni Ti è piaciuta la sorpresa? Siamo pronti? Eh C'hai una moglie fantastica Ah papà Come avanti Papà mi dai 100 euro per quello che ho perso Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Noi abbiamo ciao Gabriele auguri ti voglio confessare una cosa lo dico davanti a tutti sei il migliore cognato che ho il più bello in assoluto il più bravo come fa il migliore guarda solo così e non è che devi segnare pensate ti chiedi ma te lo vieni dopo non capisco no comunque ti vogliamo bene altri 40 anni ti tieni 80 te lo dico io grazie di tutto grazie di esserci sempre ciao 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 allora Gabriele buon compagnolo di 40 anni da una vita ci conosciamo tu benvenuti tanti saluti non ti dai computatori di lavoro ti dai più come un fratello ciao ciao buon 40 anni 100 anni Gabriele tanti auguri da parte mia alla zia stradamore un bacione ciao 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 UFD non si può sentire non si può sentire non fare un ciappone e mi fa questa festa è così non si può sentire 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 auguri auguri ciao ciao caprile anche auguri non si può sentire non si può sentire non si può sentire ma era troppo impattato no comunque tutto a posto è un buon caldo è bellissimo è un buon caldo ciao capri bacio auri capri auri capri auri capri ti auguriamo altri cento di questi giorni ciao sempre numero uno sempre numero uno con picchiere sempre a mano con no bicchiere la bottiglia la bottiglia va bene capri ti voglio bene ti voglio bene ti auguro di essere felice ancora del 40 40 40 guarda qua salute Gabriele ciao ciao Gabriele Gabriele che dire una festa bellissima dovevamo esserci ti abbiamo portato anche la nostra nascosta perché meritavi che che noi venissimo qui a farti migliori auguri per i tuoi 40 anni ti raccomando sempre così stasera stai in forma proprio eccezionale penso che se ti metti così dietro al banco possiamo mettere in realtà in tre volte tanto se valere vuol dire qualcosa auguri auguri un abbraccio poche parole poche parole poche ma un abbraccio ti vogliamo bene grazie grazie di invito ciao 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 ah te ci stanno credendo ah auguri 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 ma cantate ma non le dimostri cosa no sei bravissimo soprattutto a ballare ciao auguri dicete e dici auguri Gabriele e dici auguri Gabriele lei lei ha guardato carissimo Gabriele siamo i tuoi suoi siamo contenti di questa giornata e vorremmo che staresti sempre contento come oggi l'unica cosa ti chiedo fai contento sempre a mia figlia ti vogliamo bene augurissimi auguri auguri Gabriele che questa è proprio una cosa che possa vi saluto eh ti vogliamo bene ti vogliamo bene Gabriele a te e tutta la famiglia eh questo piccolo bimbo vuole fare gli auguri a Casino Gabriele all'olio questo è il paldefine come si sta registrando mi sa mi sembra voi si ma chiu receiversl ti do NONO! Come lo faccio? Cazzo! E' mo' cazzo! No, no, niente... No, niente, non mi raccomando! No, non mi raccomando! Se ci si stima la ricetta, la tappa intervista! Ma prima, ha la gelanuccia da cura che ti ha preso! Non ci arriva! Zero! Zero! sono ubriati non pensare a questi due vecchietti questi due vecchietti pensano solo ai soldi invece noi pensiamo che devi stare bene Gabriele non pensare noi ti vogliamo bene anche io ti voglio bene anzi Gabriele e ringraziamo tua mamma che ti ha fatto così bravo dolce che parola mi sta sto muovendo così hai fatto contento mia figlia auguri come si chiama in festa di giornata? sono ubriati Gabriele per te Gabriele per te uno strip qua in diretta ma come fai fa? mamma mia Gabriele per te guardami qua dai Gabriele per te guarda come fai fa? ecco mi hai fatto uno strip vai io ho fisico Gabriele tutto per te tanti auguri eh Gabriele tanti auguri proiettiamo per uno spettacolo grande vedo che ci sono tante belle persone significa che sono persone che ti vogliono bene un bacio e devi sicuro un pochettino ciao Gabriele grazie a tutti per questa serata memorabile è stato abbastanza emozionante guardarvi tutti e che posso dire grazie a mia moglie per questa splendida serata che mi ha organizzato ci vediamo alla prossima che sarà penso quanto prima sempre insieme a tutti grazie grazie a tutti